salve a tutti io sono sfina e bentornati su mini world oggi come avrete capito già dal vestitino nuovo e questa volta sono un funghettino verde siamo in una nuova mappa in una nuova mappa da cui dovremo scappare questo è un labirinto arcobaleno e noi dovremo affrontare ogni stanza di un colore diverso per riuscire a scappare praticamente da questo arcobaleno labirinto innanzitutto voglio ringraziarvi tantissimo per il supporto che date alla serie per tutti i commenti per tutti i messaggi carinissimi che mi lasciate ogni volta e direi di non perdere altro tempo a differenza delle mappe che abbiamo affrontato finora questa oltre ad avere le istruzioni in cinese le ha anche in inglese e semplicemente ci dice che la regola base è quella di trovare la chiave per aprire la porta per la stanza successiva e quindi per scappare allora io intanto mi fisso il checkpoint qui anche se sappiamo già che il checkpoint è qui e oltretutto vorrei aggiungere che noi abbiamo avuto diversi problemi con i checkpoint ogni riferimento è puramente casuale ok bene allora questa mi sembra una oltre ad essere un parkour chiaramente è porca miseria è una stanza allora a me il pavimento sembra di pane e le pareti di formaggio o al massimo di miele solido quindi pane e miele già mi sta rendendo fame allora questa è una roccia non ho capito perché è una roccia e qui c'è un messaggio che dice questo blocco non è non ti serve per usare il parkour lo vedo lo vedo ok aspetta ok 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 allora mettiamo tipo qui ok mamma mia perfetto allora abbiamo scoperto che per completare le stanze oltre ovviamente a trovare la chiave spesso dovremo interagire con dei blocchi che troviamo per modificare il percorso allora siamo alla seconda stanza allora io non so giocare a calcio cosa abbiamo qui magliette è un messaggio che ci dice calcia forte va bene calcerò forte allora ok ok sono pronta vai dov'è la palla ok ho calciato la palla non è andata bene vai no vai non ho capito che vai 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 forza capito vai vai e ma non vorrei dirlo ma sia sia ei palla palla si è bloccata la palla scusatemi ma non dovrebbe andare tipo da quest'altra parte qua no non devo fare gol in qualche modo la porta non si è aperta fatemi aprire la porta vi per aspettate le scivolate le scivolate la palla no la palla ti prego c'è veramente o l'ho presa l'ho presa l'ho presa ci sono da qui che fine ha fatto ma ce l'ho ancora io c'è andata è andata dentro finalmente o allora molliamo questa maglietta andiamo alla prossima mamma mia non avevo capito assolutamente cosa fare ma ok allora togliamo ci di mezzo queste carte la maglietta che è il male e vediamo un po o mamma mia binario 10 10 10 decimale oddio non mi ricordo le conversioni in decimale binario va bene allora vediamo cosa c'è qui retino non mi dire che devo pescare i pesci devo pescare i pesci c'è veramente devo pescare i pesci ok pensiamo i pesci mio pesce pes 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 tutti i pesci ok devo mettere il numero giusto di pesci nella cassa e ma dunque 1010 io non mi ricordo quant'è vabbè proviamo a mettere tipo così no così oh oh si è aperta fammi passare ok ok che cosa è successo siamo nella stanza rossa oh mio dio ma avete capito che cosa fa qui ho capito che cosa geniale ok non è difficile non è difficile qui 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 e beh a perché giustamente devo no come faccio allora come come faccio ad arrivare la sopra aiuto oh facile ok prendiamo questa togliamoci pesciolini oddio queste prove sono veramente assurde non avevo fatto mai niente del genere però abbiamo superato anche la stanza rossa andiamo alla prossima che è la stanza rosa oh che bello c'è un ciliegio enorme ok un altro parkour bellissimo che cos'è trasduttore a creatura non ho capito che cos'è va bene andiamo avanti saltiamo qui qui e qui e poi qui e poi qui non ho capito ah ok stavo per morire va bene allora una allora io sento dei polli oh ma sei lì che cosa ciao che cosa dobbiamo fare ho capito vieni scendi con garbo piano piano perfetto ora metto questo qui tu vieni con me rimani qui per me no aspetta così oddio è difficilissimo come faccio vai mamma mia adesso non passerò mai più va bene comunque abbiamo passato anche la stanza rosa oh ah qui i blocchi si rompono e rompiamo i blocchi questi qui di cioccolata dovrebbero rompersi e dovremmo trovare nella stanza marrone la leva per la prossima stanza qui ancora niente oh ecco qua trovata e andiamo nella prossima oddio questa cosa sta essendo abbastanza facile marrone fatta blu jump dove mai devo saltare ma non ho capito oh no no ok mamma mia ok allora prossima stanza grigia oh mamma mia cosa dice il biglietto ci dice stai sulla linea ok tipo così e devo pre ma siamo pazzi ah ok va bene va bene mamma mia mamma mia aiuto mi sta tirando fregge mamma mia oh l'ho visto è qui dammelo mamma mia mamma mia mamma mia che paura ho preso un colpo allora ok qui siamo nella stanza nera e dice allora non riesce a trovarlo ecco un indizio torna indietro e cercalo non ho capito cos'è che dovrei cercare bianco e giallo oh no oh no ho capito credo di aver fatto un errore a parte che non posso tornare indietro credo di aver utilizzato male il blocco di pietra perché dovevo usarlo per fare qualcos'altro quindi ok l'unico modo per tornare indietro e morire bene moriamo torniamo all'inizio e dice che nella stanza bianca che dovrebbe essere questa a questo punto look dovrebbe esserci qualcosa che abbiamo dimenticato eccolo ok allora dunque io direi che possiamo fare anche il pulsante no secondo me può funzionare anche il pulsante proviamo a vedere se funziona funziona anche il pulsante perfetto allora vediamo un po qui abbiamo dei razzi notte giorno del succo delle patate grazie perché mi fanno comodo lascio pure tutti i fogli di carta qui cos'altro abbiamo un laghettino pesce va bene e dice di dormire dormiamo prossima prova oh mammina allora la stanza è begiolino che cos'è perché segna qui oh questo è per facilitare ma io ci voglio provare ecco magari non così magari non così ti prego oddio no 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 ok Nel caso in cui falliamo troppe volte Abbiamo una via d'uscita Ok, vai Credo di aver già fallito Credo palesemente di aver già fallito Aia No, 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 no Ok Mangia, ti prego Mangia, ti prego Torni indietro L'acqua Ho capito a che serve l'acqua Perfetto Ok Ci siamo Possiamo farcela Dunque 3, 2, 1 Vai Ok Vai Vai Ok, ci siamo È stato facile È stato facile È stato facile Ora Stanza verde Che cos'è? Sembra uno scivolo d'acquatico Oh, qua c'è una Frecce Ma non ho un arco Cioè Forse è là sopra Saliamo Sali, sali Eccolo qui l'arco Nommi l'arco Ok Ci siamo Vai Vai Con calma Mira bene Ok, andiamo Scendi Oddio Mi sono intrappolata Nell'acqua Scendi Ok, perfetto Stanza verde superata Stanza viola Oh Oh Quelli sono blocchi musicali Vediamo un po' Cosa dice Aumenta Diminuisci Questa aumenta Questa aumenta No Come no Uhuh Mamma mia Ho capito cos'è Perfetto Era un indovinello Anche piuttosto Cioè Va bene Ma ce l'abbiamo fatta Ok Stanza arancione Vediamo un po' Come pinball Ma è flipper In che modo Io che devo fare Cioè Leva Non ho capito niente Che dice Ok Non dobbiamo usare Questo interruttore Per questa porta Evidentemente Ci serve per un'altra cosa Va bene Ma cosa ci serve Voi Voi Credo Oh Ce l'abbiamo fatta No Sì Ce l'abbiamo fatta Prossima Wow Stanza grigia Questa stanza mi piace Ci sono un sacco di libri Qua cosa c'è Niente Qui Niente Ehm Uh Non mi dire che dovrei passare di qua C'è qualcosa di là Non vedo niente di interessante di qua Che cosa devo fare Lì c'è un Come Cosa devo fare Beh potrei usarlo per questa stanza Effettivamente Visto che non riesco a capire cosa devo fare Ok magari usiamo l'interruttore per questa E Ciao Ok perfetto Torte Buone le torte Mi piacciono le torte Allora Stanza grigia C'è un laghetto Uh Una cassa Vuota E qua Oh si scende sott'acqua No che figo Oh Che 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 succede Oh mammina Abbiamo passato la stanza Che figata Ok siamo nella stanza marroncina Dove ci sono un sacco di polli Un maialino Uh qua c'è del cibo C'è del cibo per polli Ho capito Ho capito Ho capito Allora Dobbiamo far uscire i polli In modo che si mangino il cibo Andate Fuori 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 Andate a mangiare il cibo Fuori Dai che non è difficile Uscite fuori 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 Bravissimi Guardate come sono bellini Tutti fuori Vai Andate a mangiare il cibo Mangiate il cibo Bravo Anche tu Mangia il cibo Dai Ce ne mancano giusto due Forza Il cibo Lì Esatto Vai 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 Perfetto Perfetto Vai Perfetto Vi potete spostare Grazie Prossima prova È veramente molto facile Ok cosa devo fare Metti tutti i blocchi Che hai raccolto qui Tutto Tutto Così Wow Grazie Che figo Prossima prova Che cos'è Wow Porca miseria Va bene Dunque Labirinto Ok va bene Quell'esplosione Mi ha fatto Prendere un colpo Ma va bene Così Ok Questo è un altro Passaggio segreto Ma non ci interessa Perché noi sappiamo Uscire dai Oh Qui non c'è niente Che cos'era? Ragazzi Che cos'era? Cioè Ho chiaramente Sentito un rugito E anche piuttosto Brutto Che cos'era? Non mi dito Che c'è un mostro Qui dentro Allora La porta L'ho trovata Però non ho trovato L'interruttore Vicino Oh Questo Allora Questi blocchi Trasparenti Fichissimi Non ho capito Dove li ha presi Ma sono bellissimi Quindi complimenti Sans Oh mamma mia Non ho capito Che cosa? Oh Mamma mia Ma è un labirinto Sotto un labirinto Non ho capito Cioè Guardate che roba Allora Devo arrivare lì Da qualche parte Ma non so come Fatemi uscire Di qua No Ce la posso fare Ce la posso fare Allora dunque Dobbiamo trovare Qui dovrebbe essere Qui da qualche parte No Qui Perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Che cos'è sto blocco? Ah Miele No è un alveare Mi serve Dov'è? Avanti Ci deve essere una cassa Qui da qualche Ah La cassa è lì Bene Non l'avevo notata Ok Allora Vediamo un po' Se c'è qualcosa Non c'è niente Continuo a sentire Brutti grugniti E non è bello da sentire Ah Eccola dov'è C'è un secchio Prendiamo anche il secchio Fa sempre comodo E torniamocene fuori Ho capito Il miele Dov'è? L'avevo visto qui da qualche parte Eccolo Preso il miele E che ci devo fare Col miele? Mi sento un attimo persa Aiuto Fatemi uscire Dunque Con il miele Forse devo fare Ok Ho capito Tipo Qui Così Perfetto E risaliamo Sali 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 Perfetto Mamma mia Prossima Carini Ma ciao Allora Questa è la stanza Ciano E vediamo un po' Qual è la domanda Oh mamma mia Ma siete tantissimi Dunque La domanda è Quante stanze Hai superato Senza contare questa? Eeeh Dunque Undici? No? Forse sì Proviamo Ah Bene Mi ha riportato indietro Per farmi contare le stanze Ok Va bene Allora vediamo un po' Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Oddio Dieci Stavolta Stavolta la scavalco Però In teoria Dovremmo aver fatto Una roba come Venti Livelli Sì Perfetto Ok Prossima Oh mamma mia Ok Stanza rossa Vediamo un po' Cosa dice Please stay here Dovrei rimanere Ferma qui E cosa devo fare? Non ho capito Che cosa devo fare? Ok Oh porca miseria Non ho capito Va bene Corri Non importa Va bene Chiuditi Non ti chiudi? Oh Ho finito? Oh Oh mio Dio Ho finito Oh mio Dio Ho finito Non ci posso credere E' stato Facile? Non lo so Non ne sono neanche Troppo convinta Però Oh mamma mia Non ci posso credere Abbiamo finito la mappa E anche in maniera Molto rapida Devo dire Quindi prendiamoci pure La nostra stellina Sì Abbiamo finito Siamo scappati Dal labirinto Arcobaleno Ce l'abbiamo fatta Questa volta Sono sola Non come l'altra volta Che c'erano 387.000 spina Probabilmente Perché l'altra volta Sono morta Veramente 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 Tanto spesso Comunque Un altro successo Per noi Siamo riusciti A completare Un'altra mappa E penso che Per il momento Sia tutto Grazie ancora Per aver visto Il video fin qui Grazie per tutti i commenti Tutti i suggerimenti Che mi lasciate ogni volta Se conoscete Qualche mappa Carina Che vorreste Veder giocata Ovviamente Aspetto tutti i vostri Suggerimenti Nei commenti E noi Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao Grazie a tutti i nostri